Aurelio Punzoni, Narte Cochi, Giovanni Floris, Lercio, questi alcuni dei nomi che hanno fatto decollare la sesta edizione del Foiano Book Festival che ora attende Enrico Brizzi e il gran finale con Sergio Cammariere. L'obiettivo è quello di cercare di portare più gente possibile e soprattutto variegata, quindi si parla sia dei fumetti, quindi dei ragazzi più giovani, si parla di attori affermati, si parla di concerti di un certo calibro, quindi si cerca di fare cultura di alto livello però anche che sia popolare e la risposta ci sembra quella giusta. Un Foiano Book Festival che ormai, lo dico con un legittimo orgoglio, credo sia la manifestazione letteraria più importante della provincia e non solo. Abbiamo ospiti per tutti i gusti, c'è la letteratura maschile e femminile, ci sono gli attori, ci sono gli sceneggiatori di teatro, c'è la musica. Insomma, sono convinto, siamo convinti che sarà ancora una volta un grande successo di critica e di pubblico. Quest'anno le scelte come le avete fatte? Le abbiamo fatte un po' tutti insieme perché siamo un po' di più rispetto alle prime edizioni, ci sono officine della cultura, che contattano persone, artisti, scrittori che conoscono, con cui hanno lavorato. Io e Andrea appunto abbiamo contattato le nostre conoscenze anche per il nostro lavoro, anche di scrittori che ci vedrà uniti in una presentazione insieme, che io temo tantissimo, lui il suo libro, io e il mio, dialogheremo tra noi.